Listo? Corri con internet fino a 2,5 gigabit, senza vincoli e costi nascosti. A 25,95 euro al mese, vieni in negozio o vai su fastweb.it. Fastweb, welcome to the next generation. Se una forma di formaggio ci racconta di godersi la vita, di un sapore ricco e ricercato stagionato oltre 20 mesi, allora è Grana Padano Riserva. Grana Padano, la vita ha un sapore meraviglioso. Nova Night Triplazione Addormentamento Risvegli notturni Qualità del sonno Nova Night Farmaci da banco, integratori, cosmetici e prodotti veterinari epharma.com I tuoi farmacisti online Solo con Fiat ti godi il relax per un anno intero Inizi a pagare nel 2022 e hai fino a 10.000 euro di bonus sulla gamma Fiat Ad esempio, nuova tipo Cross tua da 14.900 euro Approfittane subito Ogni volta che la semplicità di oro e una tavoletta di cioccolato si incontrano Nasce una merenda spaziale Oro Chocke Semplice come oro, goloso come ciocke Se ti piace Su Dazon trovi anche Scopri tutto lo sport di Dazon Dazon, i tuoi sport preferiti Live on demand a 9,99 euro al mese Nuovo Captur Plugin Hybrid A febbraio tuo da 149 euro al mese In concessionaria online Renault è sempre con te L'appetito chiama? Deliveroo risponde Ordina i piatti che ami dai tuoi ristoranti preferiti Te li consegniamo dove vuoi In circa 30 minuti E se sei un nuovo cliente Hai 14 giorni di consegne gratis Scarica l'app 2021 Torna protagonista del tuo tempo Riparti con Peugeot Scattano i nuovi incentivi statali E Peugeot li moltifica A febbraio nuova 208 Da 10.900 euro Peugeot Corri con internet fino a 2,5 gigabit Senza vincoli e costi nascosti A 25,95 euro al mese Vieni in negozio o vai su fastweb.it Fastweb Welcome to the next generation Ehi, auguri di buon San Valentino Da Uliveto e Rocchetta Le tue acque della salute Che cosa centro io con San Valentino? Beh, chiedetelo a lei Uliveto e Rocchetta Le tue acque della salute Non è un film È nuova Dacia Sandero Nuova gamma Dacia Sandero Nuovo design Nuovi equipaggiamenti A febbraio Ancora da 3 euro al giorno Scoprila anche in versione Turbo GPL Con i doppi saldi poltrone sofà Sono gli ultimi giorni Per creare l'armonia dei tuoi sogni Tanto in casa e quanto nella vita A soli 289 euro Accogliere le amiche sul relax scorrevole Per dare alle persone speciali Un posto speciale A 740 euro Oppure Sfruttare un divano angolare Per fare più bello non solo il salotto A 1590 euro Doppi saldi 50% di sconto Più fino a un ulteriore 40 Su tutti i divani in negozio I 48 rate Senza anticipo E senza interessi Ma Sono gli ultimi giorni Poltrone sofà Autentica qualità Con William Hill News Puoi vivere lo sport Ogni giorno E in ogni momento Per tutte le curiosità Le notizie E gli approfondimenti Scegli chi lo sport Lo conosce da sempre Vai su WilliamHillNews.it Il cinema È una storia d'amore Che ha il potere di sorprenderti Sempre Volevo guardarti ancora una volta A San Valentino Celebra le emozioni Che ogni film è capace di darti Insieme a chi ami Quando pensi a una pausa Pensi solo a Kinder Bueno Buffer croccantissimo Morbida crema alla nocciola Per un momento di piacere Senza pensieri Kinder Bueno Piacere sì Pensieri anche no Super Mario è tornato su Switch Grande Aspettatemi No Su Nintendo Switch Super Mario 3D World Più Bowser's Fury Forse è venuto un momento Di tornare in servizio Soprattutto Tenga necessità Ma ripigliare Tutte quelle che ho mia Bentornati a casa Let's go È fantastico Il mondo intero Adesso è nelle tue mani Tenetevi forte Un buon sistema immunitario È anche frutto di abitudini sane Molticentrum Con vitamina C Zinco E un alto contenuto Di vitamina D Supporta le tue difese naturali Giorno dopo giorno Prova il multicentrum Più adatto a te Action Faster, faster They're gaining on me Ok, now Muoviti con Verti E puoi avere tre mesi Di polizza auto gratis Fai un preventivo E prima di sottoscrivere Leggi il set informativo Su verti.it Verti L'assicurazione Sempre avanti Su The Nuovo Regole nuove Non si mangia in macchina E Zorro Tu rimani dietro Vabbè Iniziamo domani Nuovo Opel Crossland Bello da vedere SUV da vivere A febbraio Da 13.950 euro Grazie agli incentivi statali Vai ragazzi Ora basta Fa attenzione Ehi, non mettergli il piede in faccia Ha iniziato lui Ragazzi, ma vi devo separare? Mettila tu Ehi, non mi toccare Se non la smettete subito Giuro che vi mangio vivi Uno ad uno Eh, forse sarà meglio farci separare Nuove tavolette di cioccolato M&M's Fatti catturare Fin il dì Studiamo da te Hai già internet a casa, vero? Magari hai sì internet Per te Aiuto Sono di nuovo senza internet Per te No La connessione non funziona Adesso come faccio? Per te Oh io la soluzione giusta per te Passa a Link E per te da oggi Linkam Arriva in 3000 nuovi comuni Naviga senza linea Con l'attivazione super veloce A soli 19,90 euro al mese Per i primi 12 mesi Chiama subito Tutto il gusto di Crispy McBacon Con bacon croccante E l'inconfondibile salsa Ti aspetta in formato grana Non perdertelo Italia 1 Cosa vuol dire naif? Una donna matura Milf quella No naif Milf, milf Orrore Orrore Pube, secchioni E viceversa Vi aspettano giovedì In prima serata Su Italia 1 Italia Una Pempi duri per Gru Sei licenziato Un avversario da sfidare E un alleato Finora sconosciuto Suo fratello gemello Dru Fratello gemello Fratello gemello Che cosa avete fatto oggi? Niente Su Italia 1 Sbagliato Ci siamo scambiati Non torneremo ad essere cattivi Sabato Musica d'assalto Alle 21 e 20 Cattivissimo me 3 Fiat presenta il primo spot Che ti offre un anno di relax Solo con Fiat Scegli adesso E inizi a pagare nel 2022 E il relax continua Perché hai fino a 10.000 euro di bonus Sulla gamma Fiat Ad esempio 500X Tua da 14.900 euro Gli incentivi finiscono Non aspettare il 2022 Per approfittarne Vedo Ue ragazzi Siete pronti per partire? C'è una novità Mi sono tagliato i baffi Ma no Gigi Eri bellissimo con i baffi Ma stavo scherzando Dai Sì ma pure io scherzavo Le Iene Da martedì 16 febbraio Su Italia 1 We don't need too much to live We don't need to share stories Or make art Or place bits Because the sun still shines Even if we miss the sun's rise You don't need to drive Cupra Formentor Drive another way Scoprila anche nella nuova gamma ibrida Regalati un momento di estasi L'irresistibile sollivolezza dell'indoor Creata dai metri cioccolati e l'int Per te E per far sciogliere il cuore di chi ami Solo con la giga network Vodafone Rete fissa e mobile Si uniscono Per darti la connessione a casa più affidabili di sempre A 29 euro e 90 al mese Provala È senza vincoli Over me Noi di Farmacie Uniclub Siamo ancora più vicini alla nostra gente Con il kit Famiglia Protetta In omaggio il Saturimetro Gima Strumento da avere in ogni casa Scopri le farmacie aderenti Su farmacieuniclub.it Farmacieuniclub Ci prendiamo cura di te La vita è più bella a colori Continua la rottamazione Con gli incentivi Citroen Nuova C3 da 9.900 euro Anche domenica Citroen Sapete chi è che ci dice se una forma di formaggio Può diventare grana padano La forma stessa Se ci racconta di godersi la vita Di un sapore delicato e fragrante Allora sì È grana padano E se poi attendiamo mesi e mesi Avremo qualcosa di ancora più ricco e ricercato Grana padano riserva Grana padano La vita ha un sapore meraviglioso Noi di Sogni d'oro Volevamo darti il doppio La nuova camomilla che ha i fiori di camomilla comune Unisce quelli della camomilla romana Sogni d'oro doppio fiore Rilassante E digestiva Sogni d'oro Benessere per sognare Prova anche delizie e frutta secca I primi infusi Sogni d'oro con frutta secca Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio La nostra grande musica I live Le interviste esclusive alle rock star internazionali Tutto il nostro mondo Lo puoi vedere sul canale 257 del digitale terrestre E dal 15 febbraio Segui la diretta di Revolver con Ringo Virgin Radio TV Ascoltaci Guardaci Virgin Radio Style Rock Dal cielo pandistelle Bisco crema Biscotto al cacao e crema pandistelle Per una biscocremosità mai provata prima Non c'è niente di più magico Di quando due sogni si incontrano Bisco crema pandistelle Senza olio di palma I capelli sono sempre stati un problema Più li lavavo Più la forfora aumentava Poi ho scoperto Restivoil L'olio shampoo con azione antiforfora immediata Ed antiricomparsa fino a 6 settimane Ora i miei capelli sono belli A prova di bacio Restivoil 100% liberi dalla forfora A prova di bacio Difficoltà ad addormentarti? Risvegli notturni? C'è la tripla azione di Nova Night Che ti aiuta a ritrovare il tuo naturale ciclo del sonno E non crea abitudine Nova Night 9 consumatori su 10 sono soddisfatti Provalo anche in bustine Oggi colazione con i plum cake? Sì, ma Kinder E cos'hanno di diverso? Questi sono fatti con lo yogurt alla greca Sono i plum cake Kinder Sono fatti con cremoso yogurt alla greca Una ricetta unica Deliziosamente soffice e gustosa Buoni questi plum cake? Certo Sono plum cake Kinder Plum cake Kinder Deliziosamente plum cake Se ti piace Su Dazon trovi anche Scopri tutto lo sport di Dazon Dazon I tuoi sport preferiti Live on demand a 9,99 euro al mese Hai presente la nuova Suzuki Suace Hybrid? Riduci i consumi e si ricarica da sola Una open space perfetta per te, la famiglia e tutte le tue passioni Nuova Suzuki Suace Hybrid Tua da 23.400 euro con incentivi Aperti per te anche domenica Suzuki Italia 1 Siamo sull'orlo di un mutamento climatico radicale I dati del satellite danno un calo della temperatura di 10 gradi al secondo È impossibile Niente del genere era mai accaduto prima Signor vicepresidente O reagiamo ora o sarà troppo tardi Ho paura che il tempo sia già scaduto Cosa posso fare? Salvare più vite possibile Domani sera alle 21.20 Su Italia 1 The day after tomorrow Il tempo Consultazioni Berlusconi Ribadisce l'appoggio di Forza Italia Al primo posto c'è la salvezza del paese Zingaretti serve una riforma fiscale Salvini incontro utile Speriamo che nessuno si metta di traverso Crimi ci ha rassicurato su ambiente MES Ora il voto su Russo Prime linee del programma di Draghi Riforma fiscale con rimodulazione di aliquote e scaloni Esclusa la flat tax Lotta dura all'evasione Accelerazione sulle vaccinazioni con gli insegnanti Tra le categorie prioritarie Coronavirus 10.630 nuovi casi 422 le vittime Effettuati oltre 274.000 tamponi Il tasso di positività in calo al 3,9% Seconda fase del piano vaccinale Alle categorie a rischio Pfizer e Moderna Alla fascia 18-54 anni AstraZeneca Crolla la produzione industriale nel 2020 In calo dell'11,4% La flessione spiega l'Istat è la più ampia mai registrata Per i beni di consumo Confermato però il boom continuo dei depositi bancari La scomparsa di Franco Marini L'ex presidente del Senato Stroncato dal Covid Aveva 87 anni Fu anche segretario della CISL e ministro Tanti i messaggi di Cordoglio Mattarella Esempio di impegno politico onesto Tanti i messaggi di Cordoglio Pupere, secchioni e viceversa Vi aspettano giovedì In prima serata Su Italia 1 We don't need too much to live We don't need to share stories Or make car Or place bits Because the sun still shines Even if we miss the sun's rise You don't need to drive Cupra Formentor Drive another way Scoprila anche nella nuova gamma ibrida Sembra diverso Lo è Guarda tu stessa Ok, è una foto Guarda meglio Da ogni scatto puoi avere altre foto Che mi dici dei video? Sono in 8K Uno spettacolo mai visto Quindi? Puoi estrarre immagini perfette dai video Ma la batteria durerà per tutto il viaggio Puoi scommetterci Andate e ritorno Sì, è proprio diverso Che ti avevo detto? A Elisa piace guardare i film con Andrea E mangiare la crema dei baiocchi Prima che Andrea le rubi la frolla Solo nocciole italiane e cacao Nella golosa crema dei baiocchi mulino bianco L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni Non mi lasciavano mai Dormivo male Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila Laila, nuovo farmaco con formula Silex Anche aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve Laila, più spazio alla vita È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista Ascoltalo Quando sai cosa è meglio per te Nuovo Skoda Kamik Il city sub con infotainment wireless connected E guida assistita di livello 2 Skoda Kamik, anche a metano Da 149 euro al mese Skoda, simply clever Sono di nuovo senza internet Oh io la soluzione giusta per te Passa a Linkam E per te da oggi Linkam arriva in 3000 nuovi comuni Naviga senza linea fissa con l'attivazione super veloce a soli 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi Chiama subito Il mio filtro preferito? Una pelle libera dall'impurità Le Nivea Clear Up Strips rimuovono istantaneamente i punti neri e le impurità dalla zona T E puoi vedere subito il risultato Clear Up Strips da Nivea Nella confezione trovi anche i cerotti mento Ideali per l'impurità da mascherina Sei pronto per Poker Stars News Ultime notizie sui tuoi sport preferiti Calcio, basket, tennis e altro ancora Resta al centro dell'azione fino all'ultimo istante Scopri di più su Poker Stars News Lo sport a 360 gradi Corri con internet fino a 2,5 gigabit Senza vincoli e costi nascosti A 25,95 euro al mese Vieni in negozio o vai su fastweb.it Fastweb, welcome to the next generation Il mal di testa da cervicale Nasce da un'infiammazione che provoca dolore dalle spalle fino alla testa E può durare a lungo Puoi provare Mom&Doll Riduce il dolore fino a 12 ore Mentre combatte l'infiammazione Mom&Doll, anche in capsule molli Da Angelini Ci dicono sempre che amiamo la neve La sicurezza, il divertimento Che siamo 4x4 E in città? Beh, facciamo lo stesso Scopri le nuove Subaru XV e Forester Su Subaru.it Subaru Italia 1 Invasione Quando il male sta per vincere Ho bisogno di guerrieri Ci sto Gli eroi Non smettono di combattere Questa è la squadra Justice League Domenica 21 e 20 Italia 1 Ben ritrovati da Meteo.it Mercoledì ci raggiungerà un'altra perturbazione La numero 4 del mese Che porterà piogge diffuse da nord a sud E poi giovedì ci raggiungerà anche dell'aria gelida Che provocherà un sensibile calo termico su tutto il territorio Nella giornata di mercoledì avremo mal tempo su tutta la nostra penisola Pioggia e rovesci al nord Nevicate lungo l'arco alpino Rovesci temporali anche al centro-sud e sulla Sardegna Le maggiori scherite riguarderanno l'estremo sud e la Sicilia Per tutti i dettagli il nostro sito Meteo.it Il mio filtro preferito? Una pelle libera dall'impurità Le Nivea Clear Up Strips rimuovono istantaneamente i punti neri e le impurità dalla zona T E puoi vedere subito il risultato Clear Up Strips da Nivea Nella confezione trovi anche i cerotti mento Ideali per l'impurità da mascherina Uè ragazzi stiamo per partire Tutti pronti? Io? Prontissimo Una quattro stagioni con doppia mozzarella di bufala Scusate ho sbagliato chat Tornano le Iene Da martedì 16 febbraio Su Italia 1 Tutto ha iniziato da un impulso Ma dopo un attimo Ti ritrovi a volare Ed è allora che ti senti Inarrestabile Nuova Honda Jazz Hybrid L'ibrido che non c'era Tu ha da 17.900 euro in caso di rotamazione Vai su Honda.it Disney Plus diventa grande Arriva Starra Molte più serie E molte più produzioni originali ogni mese Voglio di più Abbonati a Disney Plus entro il 22 febbraio E avrai Starra al prezzo dell'abbonamento annuale a 69,99 euro Ace presenta Condominio Surace In questo spot c'è uno specialista del pulito Ed è La mamma È ovvio Perché si affida al nuovo Ace sgrassatore igienizzante Lo specialista del pulito che sgrassa e rimuove germi e batteri Nuovi Ace sgrassatore L'igiene ogni giorno E per l'igiene fuori casa Prova le nuove salviettine igienizzanti Ace Ultima call È ora di Just Eat Scarica l'app Super Mario è tornato su Switch Grande Aspettatemi No Su Nintendo Switch Super Mario 3D World Più Bowser's Fury Non è un film È nuova Dacia Sandero Nuova gamma Dacia Sandero Nuovo design Nuovi equipaggiamenti A febbraio ancora da 3 euro al giorno Scoprila anche in versione Turbo GPL Con aspirina C al tuo fianco Sono i sintomi di raffreddore e influenza a fermarsi Non la tua giornata Aspirina C agisce dai primi sintomi di raffreddore e influenza Dando un rapido sollievo E grazie alla vitamina C Stimola il sistema immunitario Aspirina C Pronti per essere al tuo fianco Quando serve Ehi Auguri di buon San Valentino Da Uliveto e Rocchetta Le tue acque della salute Che cosa centro io con San Valentino? Beh, chiedetelo a lei Uliveto e Rocchetta Le tue acque della salute Scusi? Che? Di che anno siamo? Il 79 d.C. Scappa! Che finissimo, grazie Ah no, non l'avevo finito Ah, Pietro Nuovo Pringol Duo Gel E smascherare bugie E smascherare bugie Per te arrivano le nuove offerte smart Scontate e rinnovabili Come Sky TV e Netflix A soli 19,90 euro al mese per 18 mesi E alla scavenza Puoi rinnovare Sky Smart Allo sconto applicabile Chiamaci 02 8080 O vai su sky.it I don't give a single fuck Don't say you're sorry I'll be out up in the club Don't need nobody We are done Bella ciao I won't out Had enough Fuck you La, 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 la Fuck you La, 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 la Baby, we are done La, la, la So I'm bella ciao La, 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 la Italia Uno Incontreremo uno dei dinosauri più famosi del mondo Un cucciolo ritrovato in Italia Tra i monti e i boschi di Pietraroia Entreremo nella piramide Cestia di Roma Costruita duemila anni fa Andremo ad Aquileia Dove si trovano ancora i segni del passaggio di Attila Questo e molto altro a Freedom Con Roberto Giacoppo Venerdì in prima serata Su Italia Uno Farmaci da banco Integratori Cosmetici E prodotti veterinari E pharma.com I tuoi farmacisti online Italia Uno Hai tre secondi per cambiare idea A una condizione Te sto ascoltando Voglio usare la mia auto Jason Statham Transporter 3 Lunedì 21 e 20 Italia Uno Fiat presenta il primo spot Che ti offre un anno di relax Solo con Fiat Scegli adesso e inizi a pagare nel 2022 E il relax continua Perché hai fino a 10.000 euro di bonus Sulla gamma Fiat Ad esempio Nuova tipo Cross Tua da 14.900 euro Gli incentivi finiscono Non aspettare il 2022 Per approfittarne I capelli sono sempre stati un problema Più li lavavo Più la forfora aumentava Poi ho scoperto Restivoil L'olio shampoo Con azione antiforfora immediata Ed anti ricomparsa Fino a 6 settimane Ora i miei capelli sono belli A prova di bacio Restivoil 100% liberi dalla forfora A prova di bacio Alla guida Scegli la sicurezza Con Prima Assicurazioni ti conviene L'RC Auto è da 160 euro Pagabile mensilmente E con Prima Casa e Famiglia Ti proteggi da imprevisti E danni accidentali Prima Assicurazioni Vai sul sicuro Parmigiana? Grazie Ma soffro di acidità Mi sento gonfia E se ti dico Jeffer? Puoi non rinunciare A quello che ti piace Per la cattiva digestione Jeffer con la sua triplice azione E l'effervescenza gusto arancia Agisce velocemente Su acidità Con fiore e nausea Jeffer Alleato contro il mal di stomaco Spogliati di ogni romanticheria Quest'anno San Valentino è hot E l'anima gemella si incontra senza vestiti A Naked Attraction Italia Guarda l'ora in versione nudo integrale In esclusiva solo su Discovery Plus Abbonati ora a 99 centesimi al mese Per i primi tre mesi Vai su discoveryplus.it Con William Hill News Puoi vivere lo sport ogni giorno E in ogni momento Per tutte le curiosità Le notizie E gli approfondimenti Scegli chi lo sport Lo conosce da sempre Vai su williamhills.it Sogni una cantina in casa Ma non sai dove metterla Con Wine Livery Hai i migliori vini Birre e drink Sempre a portata di mano In 30 minuti Alla temperatura ideale E direttamente dal produttore Così risparmi Wine Livery L'app per bere in oltre 40 città Più asciutto tutta la notte? Prova Pampers Baby Dry E' più asciutto degli altri pannolini E protegge fino a 12 ore Disponibile anche nella versione Mutandino E da febbraio La raccolta punti si rinnova Scarica l'app E scopri tanti sconti E nuovi fantastici premi Pampers Con amore si cambia Se ti piace Su Dazon trovi anche Scopri tutto lo sport di Dazon Dazon I tuoi sport preferiti Live on demand A 9,99 euro al mese Dichiarazione di stile Nuovo Toyota CHR Hybrid GR Sport Coupé SUV Ibrido Fino a 7.000 euro di bonus Sulla gamma CHR Anche grazie agli ecoincentivi statali Anche domenica Ragazzi Io ho un sacco di servizi pronti Pure io E ho appena rischiato di prendere le botte Ragazzi Ho rischiato di prenderne anch'io Ma perché? Hai fatto un servizio Nicola? No, no Le botte sono per i balletti Meritatissime Pensate che si impegna pure? Tornano Le Iene Da martedì 16 febbraio Su Italia 1 Golia Active Plus Freschezza Balsamica Respira Golia Domani sera Scegli il programma Mediaset che fa per te Mediaset La tua scelta libera Università online e campus 56 percorsi di laurea Lezioni, tutore ed esami online Info all'800 410 300 Golia Active Plus Freschezza Balsamica Respira Golia Italia 1 Ci hai messo uno sforzo in mani E infatti siamo ancora qui In mani cos'è? Tantissimo Cosa? Sai cosa è uno Ione in scienza? Cosa è uno Ione? Ione è una persona Cupida Fupe, secchioni e viceversa Vi aspettano giovedì In prima serata Su Italia 1 Eccellente Watson Elementare Oh, vieni Corri con internet fino a 2,5 gigabit Senza vincoli e costi nascosti A 25,95 euro al mese Vieni in negozio o vai su fastweb.it Fastweb, welcome to the next generation Se una forma di formaggio ci racconta di godersi la vita Di un sapore ricco e ricercato stagionato oltre 20 mesi Allora è Grana Padano Riserva Grana Padano La vita ha un sapore meraviglioso Virgin Radio TV È il canale televisivo di Virgin Radio La nostra grande musica I live Le interviste esclusive alle rock star internazionali Tutto il nostro mondo Lo puoi vedere sul canale 257 del Digitale Terrestre E dal 15 febbraio Segui la diretta di Revolver con Ringo Virgin Radio TV Ascoltaci Guardaci Virgin Radio Style Rock Dichiarazione di stile Nuovo Toyota C-HR Hybrid GR Sport Coupé, SUV, ibrido Fino a 7000 euro di bonus sulla gamma C-HR Anche grazie agli eco-incentivi statali Anche domenica If you want a partner Take my hand Or Here I stand I'm your man John The Fragrance Giochi, 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 ancora giochi Io voglio tanti giochi Li voglio sempre con me Mi basta digitare giocodigitale.game Io fatti giochi a volo Il divertimento è su giocodigitale.game Divertiti online con tantissimi giochi Non è un film È il nuovo Adaccia Sandero Nuova gamma Dacia Sandero Nuovo design, nuovi equipaggiamenti A febbraio ancora da 3 euro al giorno Scoprila anche in versione Turbo GPL BORA Cucinare senza odori I piani cottura con aspiratore integrato Trasformano l'ambiente cucina Silenziosi ed efficaci BORA L'originale Sembra diverso Lo è Guarda tu stessa Ok, è una foto Guarda meglio Da ogni scatto puoi avere altre foto Che mi dici dei video? Sono in 8K Uno spettacolo mai visto Quindi? Puoi estrarre immagini perfette dai video Ma la batteria durerà per tutto il viaggio Puoi scommetterci Andate e ritorno Sì, è proprio diverso Che ti avevo detto? Fiat presenta il primo spot Che ti offre un anno di relax Solo con Fiat Scegli adesso e inizi a pagare nel 2022 E il relax continua Perché hai fino a 10.000 euro di bonus Sulla gamma Fiat Ad esempio Nuova tipo cross Tua da 14.900 euro Gli incentivi finiscono Non aspettare il 2022 Per approfittarne Partentino Ed è in rete Che spettacolo Ha segnato Star Casino Sport Il nuovo modo di vivere il calcio Scopri di più su www.starkasino.sport L'innovazione è nel nostro DNA E per noi innovare Vuol dire renderti la vita più semplice Per questo nasce Selfie La nostra offerta digitale La gestisci tu Hai tutti i servizi di un conto corrente Puoi ottenere un prestito in tempo reale E fare un bonifico istantaneo Quando vuoi Apri conto Selfie Canon è zero per un anno E se accrediti lo stipendio Navighi gratis con Tim Selfie Mediolanum come vuoi tu Banca Mediolanum Costruite intorno a te Per disegnare la strada del domani Devi guardare il mondo con occhi nuovi Abbandonare i percorsi già tracciati Trovare nuove forme di energia Perché se sei disposto a rompere gli schemi Nessuna meta è irraggiungibile Nuova Hyundai Tucson Hybrid On to better Tua da 289 euro al mese con ecobono statale Contro i sintomi influenzali Posso usare Eferai Gun Influencer Raffreddore Per un rapido sollievo contro febbre, dolori e secrezione nasale E l'influenza non ci influenza Con Eferai Gun Influencer Raffreddore E contro febbre e dolori Puoi provare l'azione rapida e fervescente di Eferai Gun Italia 1 Il viaggio fra storia e mito continua Con Roberto Giacoppo Freedom oltre il confine Venerdì in prima serata su Italia 1 Freedom oltre il confine Vi aspetta in edicola con il magazine Nota Consultazioni Berlusconi ribadisce l'appoggio di Forza Italia Al primo posto c'è la salvezza del paese Zingaretti serve una riforma fiscale Salvini incontro utile Speriamo che nessuno si metta di traverso Crimi ci ha rassicurato su ambiente MES Ora il voto su Rousseau Prime linee del programma di Draghi Riforma fiscale con rimodulazione di aliquote e scaloni Esclusa la flat tax Lotta dura all'evasione Accelerazione sulle vaccinazioni con gli insegnanti Tra le categorie prioritarie Coronavirus 10.630 nuovi casi 422 le vittime Effettuati oltre 274.000 tamponi Il tasso di positività in calo al 3,9% Seconda fase del piano vaccinale Alle categorie a rischio Pfizer e Moderna Alla fascia 18-54 anni AstraZeneca Crolla la produzione industriale Nel 2020 in calo dell'11,4% La flessione spiegalista è la più ampia mai registrata per i beni di consumo Confermato però il boom continuo dei depositi bancari La scomparsa di Franco Marini L'ex presidente del senato stroncato dal covid Aveva 87 anni Fu anche segretario della CISL e ministro Tanti i messaggi di Cordoglio Mattarella Esempio di impegno politico onesto Cattura i tuoi momenti con le persone che ami e fissali per sempre Con Pizza Ristorante Acquista una confezione di Pizza Ristorante E prova a vincere 100 fotocamere Lumix Uè ragazzi stiamo per partire Tutti pronti? Io? Prontissimo Una quattro stagioni con doppia mozzarella di bufala Scusate ho sbagliato chat Tornano le Iene Da martedì 16 febbraio Su Italia 1 Per disegnare la strada del domani Devi guardare il mondo con occhi nuovi Abbandonare i percorsi già tracciati Trovare nuove forme di energia Perché se sei disposto a rompere gli schemi Nessuna meta è raggiungibile Nuova Hyundai Tucson Hybrid On to Better Tua da 289 euro al mese con ecobono statale I capelli sono sempre stati un problema Più li lavavo, più la forfora aumentava Poi ho scoperto Restivoil L'olio shampoo con azione antiforfora immediata E d'anti ricomparsa fino a 6 settimane Ora i miei capelli sono belli A prova di bacio Restivoil 100% liberi dalla forfora A prova di bacio Ultima call È ora Tutti insieme È ora È ora di Just Eat Scarica l'app Giochi, 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 giochi ancora giochi Io voglio tanti giochi Li voglio sempre con me Mi basta digitare giocodigitale.game Io faccio i giochi a volontà Il divertimento è su giocodigitale.game Divertiti online con tantissimi giochi BORA Cosa è la mia Cosa è la mia Cosa è la mia Cupra Formentor Drive another way Scoprila anche nella nuova gamma ibrida Italia 1 Hai 3 secondi per cambiare idea Ha una condizione Te sto ascoltando Voglio usare la mia auto Jason Statham Transporter 3 Lunedì 21 e 20 Italia 1 Speravi non sarebbe tornato? Contro il mal di schiena Puoi provare un trattamento mirato Con Voltarene Mulgel 2% La doppia concentrazione di medicinale Agisce sulla causa del dolore L'infiammazione Per contrastare il mal di schiena Là dove serve Voltarene Mulgel 2% Ben ritrovati da Meteo.it Mercoledì ci raggiungerà un'altra perturbazione La numero 4 del mese Che porterà piogge diffuse da nord a sud E poi giovedì ci raggiungerà anche Dell'aria gelida Che provocherà un sensibile calo termico Su tutto il territorio Nella giornata di mercoledì Avremo mal tempo su tutta la nostra penisola Piogge e rovesci al nord Nevicate lungo l'arco alpino Rovesci temporali anche al centro-sud E sulla Sardegna Le maggiori schierite riguarderanno L'estremo sud e la Sicilia Per tutti i dettagli il nostro sito Meteo.it Oggi più che mai è importante la protezione quotidiana da virus e batteri Amuchina Gelix Germ Disinfettante Mani Agisce contro i virus in pochi secondi E puoi toccare qui Qui E qui Da Amuchina Contro i virus Mani disinfettate in pochi secondi Da Angelini Indaglia 1 Alieni Sparizioni Fenomeni paranormali Eventi inspiegabili Nuove avvincenti indagini su ogni minimo dettaglio Su tutte le possibili evoluzioni e i possibili finali Per fare nuova luce su misteri Che non sono mai stati risolti Misteri ai raggi X Venerdì dopo Freedom Su Italia 1 Partentino ed è in rete Che spettacolo Ha segnato Star Casino Sport Il nuovo modo di vivere il calcio Scopri di più su www.starkasino.sport Tutto ha iniziato da un impulso Ma dopo un attimo Ti ritrovi a volare Ed è allora che ti senti Inarrestabile Nuova Onda Jet Hybrid L'ibrido che non c'era Tu ha da 17.900 euro in caso di rotamazione Vai su Onda.it I capelli sono sempre stati un problema Più li lavavo Più la forfora aumentava Poi ho scoperto Restivoil L'olio shampoo con azione antiforfora immediata Ed anti ricomparsa fino a 6 settimane Ora i miei capelli sono belli A prova di bacio Restivoil 100% liberi dalla forfora A prova di bacio Ugo è un camaleonte al passo coi tempi Che ama cambiare sempre Alla ricerca del meglio Così come i canali digitali Mediaset E molte altre emittenti Che trasmettono su satellite Solo in alta qualità Per un'esperienza di visione A prova di futuro Per continuare a vedere Tutti i canali digitali di Mediaset Utilizza un decodero Una cam HD o 4K La nuova televisione parte dal satellite Con TVSAT Preparati al meglio Venirti e studiamo da te Hai già internet a casa, vero? Magari hai sì internet Per te Aiuto Sono di nuovo senza internet Per te No La connessione non funziona Adesso come faccio? Per te Oh io la soluzione giusta per te Passa a Linkam E per te da oggi Linkam Arriva in 3.000 nuovi comuni Naviga senza linea Con l'attivazione super veloce A soli 19,90 euro al mese Per i primi 12 mesi Chiama subito If you want a partner Take my hand or Here I stand I'm your man John The fragrance Una Jeep ibrida non è solo urbana Agile Libera da ogni limitazione Ma anche 4x4 Fedele alla sua natura Jeep 4xE L'evoluzione del 4x4 Scopri Jeep Renegade Jeep Compass 4xE Plug-in Hybrid Oggi fino a 9.000 euro di vantaggi Grazie agli incentivi statali Gamma Jeep Tu ha da 169 euro al mese Italia 1 Il bagno di cultura Il problema sai qual è? Qual è? Che so proprio così E beh questo l'avevo capito Adesso è su che sta mangiando la rucola Dopo te la porti No no Andrea Zero Proprio zero Proprio zero Di un nome Di un nome che ti viene Pupe Secchioni E viceversa Vi aspettano giovedì In prima serata Su Italia 1 Inizio con la L Farmaci da banco Integratori Cosmetici E prodotti veterinari E pharma.com I tuoi farmacisti online Italia 1 Hai 3 secondi per cambiare idea A una condizione Te sto ascoltando Voglio usare la mia auto We don't need too much to live We don't need to share stories Or make art Or place bids We don't need to stare into space And expand our minds We don't need to make love Or make music Or make time Because the sun still shines Cupra Formentor Drive another way Scoprila anche Nella nuova gamma ibrida Partentino Ed è in rete Che spettacolo Ha segnato Star Casino Sport Il nuovo modo di vivere il calcio Scopri di più su www.starkasino.sport Siamo pronti per la vera rivoluzione Portarti a una nuova velocità In casa E sul tuo smartphone Senza vincoli e costi nascosti Fastweb Welcome to the next generation Il cinema È una storia d'amore Che ha il potere di sorprenderti Sempre Volevo guardarti ancora una volta A San Valentino Celebra le emozioni Che ogni film è capace di darti Insieme a chi ami I capelli sono sempre stati un problema Più li lavavo Più la forfora aumentava Poi ho scoperto Restivoil L'olio shampoo Con azione antiforfora immediata Ed antiricomparsa Fino a sei settimane Ora i miei capelli sono belli A prova di bacio Restivoil 100% liberi dalla forfora A prova di bacio Sei pronto per Poker Start News Ultime notizie Sul tuo sport preferito Calcio Basket Tennis E altro ancora Resta al centro Dell'azione fino all'ultimo istante Scopri di più su Poker Start News Lo sport A 360 gradi Sono di nuovo senza internet Oh io la soluzione giusta per te Passa a Linkam Per te E per te da oggi Linkam arriva in 3000 nuovi comuni Naviga senza linea fissa Con l'attivazione super veloce A soli 19,90 euro al mese Per i primi 12 mesi Chiama subito Tutto ha iniziato da un impulso Ma dopo un attimo Ti ritrovi a volare Ed è allora che ti senti Inarrestabile Nuova Onda Jets Hybrid L'ibrido che non c'era Tu ha da 17.900 euro In caso di rotamazione Vai su Onda.it L'energia che consumiamo Viene dal cibo E le vitamine B Aiutano a metabolizzarlo Per trasformarlo in energia Betotal contiene le vitamine B Per combattere la stanchezza Betotal Dai vita alla tua energia Ui ragazzi Siete pronti per partire? C'è una novità Mi sono tagliato i baffi Ma no Gigi Eri bellissimo con i baffi Ma stavo scherzando Dai Sì ma pure io scherzavo Le Iene Da martedì 16 febbraio Su Italia 1 Sì ma pure io